Amici sportivi e appassionati di Pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania, diviso in due parti. Quest'oggi con Gianni Censi, neoeletto consigliere federale. Ora parleremo di quello che è stato il momento assembleare della scorsa settimana, un momento importante. Gianni, grazie per aver accolto il nostro invito. Seconda parte che invece dedicheremo ai campionati e soprattutto al Supercoppa Day in programma sabato. Dicevo del momento assembleare vissuto settimana scorsa, abbiamo anche delle immagini, un momento di grande partecipazione nonostante le problematiche che ben conosciamo. Però hanno votato oltre il 90% degli aventi diritto. Questo è un segnale di grande entusiasmo, di grande voglia di partecipazione. Sì, ha confermato quello che è il momento della nostra disciplina sportiva. Dal 2017 vorrei dire c'è stata questa rivoluzione, praticamente rivoluzione nell'organizzazione, nelle persone, nelle figure che agiscono, che hanno le responsabilità, e che hanno preso delle decisioni proprio per lo sviluppo della nostra disciplina. Quindi sull'onda del 2017 ci siamo riproposti, a partire dal presidente Pasquale Loria, c'è stata la sua ricandidatura. L'esito ha confermato questa voglia, questa volontà di un gruppo ben oltre quello che si poteva prevedere, che c'era stato anche nel 2017 e che ha dato, diciamo, carta bianca a questo presidente, al suo gruppo per questo mandato, di portare avanti questo percorso di sviluppo della nostra disciplina. Ecco perché, a tuo avviso, il movimento ha premiato ancora Pasquale Loria e la squadra che accompagna Pasquale Loria, che ha accompagnato e che accompagnerà Pasquale Loria, squadra anche un po' rinnovata, come era normale che accadesse, insomma. Ma credo prevalentemente perché questo gruppo ha avuto coraggio di affrontare temi come la formazione dei tecnici, come l'organizzazione anche dei gruppi delle squadre azzurre in maniera specifica, in maniera molto attenta, anche sostenibile da un punto di vista poi economico. Sapevamo che avevamo un bilancio che non aveva grandi risorse, ma tutte queste risorse sono state economizzate, bilanciate per poter ampliare, migliorare e rendere più efficace il lavoro fatto per esempio in questi due temi. Ma poi io vorrei ricordare decisamente quello che è stato fatto a livello di approccio con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il CONI per tutto quello che riguarda le attività nell'ambito scolastico, nell'ambito territoriale. Ci siamo promossi molto e abbiamo approfittato anche di quelle che erano l'opportunità dateci da questi organismi e siamo stati ripagati con una grande apertura, una grande disponibilità per poter essere parte attiva, molto attiva, perché se anche ricordo l'ultimo progetto sport di classe verso le scuole elementari... Sì, progetti poi un po' andati in fumo a causa della pandemia che ha sconvolto praticamente tutte le organizzazioni, soprattutto a livello giovanile, però di fatto c'era. Questo vorrei dire il più grande rammarico che ho in questo momento, non aver potuto vedere partire questi progetti dove avevamo investito molto da un lato e ci eravamo preparati per poter essere disponibili a 360 gradi. Vedremo appena ci sarà un po' di normalità, noi ci siamo, evidentemente vogliamo ripercorrere quella strada in cui ci eravamo avviati prima del Covid. Pensiamo che si è interrotto un momento, si è interrotto per tutta la società civile, sportiva ed economica, ma per fortuna siamo ancora vivi, attivi e vogliamo senz'altro riprenderci. Soprattutto propositivi. Rispetto al progetto presentato al movimento, questo nel 2015-16 quando è partita l'avventura del cosiddetto perimetro della palla a mano, dopo tre anni effettivi di governance, anche se un anno è andato via quasi in fumo per causa della pandemia, a che punto è il progetto che avevate in qualche modo costruito presentandovi nel 2017 all'appuntamento, al primo appuntamento elettorale, quanto c'è ancora da fare per arrivare poi al completamento di un percorso importante, quello che vi ha premiato nel 2017 e che in qualche modo continuate e ha ancora subito un'ulteriore acclamazione nell'assemblea della settimana scorsa. Ma è difficile dirlo perché potrebbe essere identificato in un numero percentuale, ma devo dire che purtroppo c'è un po' di disomogeneità fra i territori e quindi alcuni territori sono partiti alla grande, erano in un buon momento di evoluzione, altri sono ancora in fase un po' più organizzativa. Però io credo, sono convinto anche per i riscontri che ho avuto non solo nel corso dell'assemblea, ma anche nelle giornate precedenti dove i presidenti piuttosto che i tecnici hanno detto che appena finisce questa pandemia si ricomincia e l'entusiasmo c'è, per cui diciamo che dal punto di vista dell'accensione dell'entusiasmo dei nostri tecnici, dei nostri frequentatori, dei nostri praticanti vorrei dire che siamo vicini al 100% per aver acceso l'entusiasmo. E poi invece c'è il lavoro in tanti campi, in tanti settori e quello probabilmente non è così omogeneo dappertutto. C'è ancora tanto da fare. E il lavoro che resta da sviluppare dovrà necessariamente ripartire da una nuova squadra di governo, no? Domenica, peraltro, ci sarà il primo consiglio federale della nuova squadra di consiglieri federali con il riconfermato Pasquale Loria alla guida della stessa squadra in occasione all'indomani del primo appuntamento, cioè il Supercoppa Day a Chieti, peraltro la nuova casa della palla a mano, il centro tecnico federale, insomma una delle iniziative immaginate e poi portate a buon fine. Ecco, questa nuova squadra come... tu sei, diciamo sei un veterano, no? Che a partire già alla vecchia governance è riconfermato. Ma diciamo che intanto questa squadra di nuovo, nuovissimo, ha la presenza delle quote rosa e viste in un momento dove c'è... Con quattro volti nuovi in generale, di cui tre donne. Tre donne che già durante l'assemblea, nonostante l'emozione... Cinque volti nuovi, giusto? Sì, esattamente, cinque, ma ripeto, mi volevo concentrare soprattutto sulla componente femminile che in questo momento sarà sicuramente la new entry anche per questa volontà e riforma del CONI e le ho viste, ripeto, emozionate ma al tempo stesso entusiaste e con tanta volontà. Quindi credo che da loro sicuramente partirà la spinta e l'energia. Il resto del gruppo ha sicuramente le motivazioni per chi ha dato la disponibilità. Quelle altre figure nuove credo che innanzitutto abbiano delle competenze specifiche e poi anche per loro, come è stato per noi all'inizio, ma ci sarà sicuramente un entusiasmo, una fiamma accesa per dare stimolo a tutti di trovare sempre nuovi percorsi e progettualità, mete da raggiungere. Assolutamente sì. A proposito del prossimo appuntamento, che è il primo poi, il nuovo Consiglio federale, il primo del nuovo mandato, diciamo così, anche se in maniera molto simbolica, si svolge da Chieti, non in presenza, perché chiaramente le problematiche le conosciamo tutte, però è importante che venga in qualche modo a trovare una simbiosi con l'avvenimento Supercoppa Day che si svolge al centro tecnico federale, Santa Filomena, che è una nuova casa della palla a mano italiana. Sì, ci sono due cose secondo me simboliche. La prima è che intanto si gioca un trofeo, che in questa stagione non sappiamo ancora come la potremo concludere. L'ultimo, ricordiamo, a marzo, a Coppa Italia. Sì, la Coppa Italia. Ma intanto è un trofeo e nell'albo d'oro delle stagioni sportive della federazione rimarrà e sarà portato a termine. Poi c'è l'evento inaugurale di Chieti e anche questo è sicuramente una delle tappe che si è raggiunta quasi senza averlo premeditato, voglio dire, ma è ovviamente un'opportunità, un'opportunità che permette alla maglia azzurra, ma non solo, poi a tutti gli eventi che possono essere di interesse nazionale come finali giovanili, come supercoppe, trofei particolari. E lì c'è una casa senza dover girovagare necessariamente, anche se poi sappiamo che l'importanza che questi eventi siano anche diffusi nei territori è promozione, è divulgazione, è motivo di slancio anche per chi riceve l'incarico. Però intanto una casa c'è, una situazione stabile per i prossimi. Fondamentale anche per la preparazione delle squadre nazionali. Questo è sicuramente una delle cose che forse inaspettatamente mai è arrivata ed è sicuramente ben accolta. Un'opportunità che è stata accolta. Purtroppo, per fortuna, capitano delle occasioni, bisogna saperle strutturare, coglierle e trasformarle in qualcosa di positivo per il movimento. Ecco, ti strappo una promessa e un impegno. Quale dovrà essere l'obiettivo che questo nuovo gruppo, questa nuova squadra di governo, unitamente dal presidente Pasquale Loria, proverà a centrare nel prossimo quadriennio? Io credo che per l'ambizione che abbiamo ci sia qualche cosa da puntare, soprattutto sulle nostre nazionali giovanili. Parlo al maschile, per il momento abbiamo visto questi giorni che c'è stato questo sorteggio e che si definirà i prossimi giorni per la sede. Una partecipazione alla fase finale mondiale. Una partecipazione mondiale diciamo che sarebbe sicuramente un fiore all'occhiello molto importante. Poi sicuramente ci sta un lavoro ancora per lo sviluppo della base, per il miglioramento tecnico e tante cose che sono sempre all'attenzione del Consiglio federale, sicuramente del presidente, mia anche in particolare, perché credo di aver lavorato molto per questa direzione e voglio continuare a farlo, ci tengo che ci sia un passo alla volta sempre più apertura. L'obiettivo purtroppo che non è stato realizzato ma che è ancora ai primi posti dell'agenda è sicuramente la realizzazione anche dei finali nazionali dei giochi sportivi studenteschi che, ripeto, potrebbe sicuramente portare la nostra disciplina ancora in un interesse centrale nel mondo della scuola. Grazie a Gianni Scenzi, in bocca al lupo, buon lavoro, perché ce n'è tanto da portare avanti. Chiamo qui la prima parte del nostro appuntamento, nella seconda parte ritroveremo Matteo Aldamonte e concentreremo le nostre attenzioni su tutto quello che avverrà, tantissimo, nel prossimo fine settimana. Ancora grazie a Gianni Scenzi. Grazie a voi. Ami lo sport e ti piacerebbe imparare a giocare a tennis? Scegli una scuola certificata FIT e scendi in campo. per conoscere nuovi amici e divertirti in totale sicurezza. Se hai meno di 16 anni, approfitta del tesseramento a condizioni agevolate. In più, la Federazione Italiana Tennis ha deciso di regalare a tutti i nuovi tesserati delle scuole tennis il passaporto personalizzabile I Love Tennis. Scopri i dettagli e la scuola tennis più vicina a te su federtennis.it Seconda parte di Handball Mania. Saluto a Matteo Aldamonte. Ciao a Matteo. Ciao a tutti. Accantoniamo il discorso programmatico sul prossimo quadriennio perché dobbiamo fissare le nostre attenzioni su quanto avverrà subito praticamente domani ovvero nel prossimo fine settimana anche se qualcosa già accadrà nella giornata di domani ma non vogliamo anticipare i temi della nostra seconda parte. Partiamo invece da quanto è successo nei massimi campionati della Serie A Beretta. Con il campionato Serie A Beretta maschile che ha visto giocarsi la sua quindicesima giornata con risultati interessanti complice la pausa del Sassari Conversano si è andata a riprendere il primato quinta vittoria consecutiva per Fasano che sta molto molto bene risalendo e che ha battuto Cassano Magnago Conversano ha vinto contro Trieste peraltro soffrendo in casa e questi sono probabilmente i principali due risultati di questo turno è finito il 2020 diciamo della Serie A Beretta maschile che però dovrà recuperare alcune partite infatti si giocherà nel fine settimana mentre al femminile si giocherà l'ultima gara del girone di andata e c'è l'intero turno da disputare proprio nel prossimo fine settimana contemporaneamente ai grandi eventi che poi presenteremo però prima parliamo del campionato parliamo della Serie A Beretta un unico servizio per vedere quello che ci aspetta non solo Supercoppa Day nel sabato della Serie A Beretta il programma si arricchisce di un weekend che alterna tre recuperi maschili alla pressoché intero programma della tredicesima giornata in rosa su quest'ultimo versante un unico rinvio Ferrara contro Derso e lo sguardo che va ancora alle fatiche della capolista Iomi Salerno le campane infatti proveranno a sfruttare anche questa settimana lo stop delle O'Peter Jean e del Bressanone al suo fisiologico turno di riposo duplicando il 20 dicembre domenica lo scontro col Cassano Magnago che appena 24 ore prima avrà assegnato la quattordicesima Supercoppa della storia un inedito ma che in tempo di Covid-19 aiuterà a mantenere comunque compatto il calendario delle due formazioni nel sabato femminile si inserisce anche la voglia di non fermarsi della C-Life Style Erice ghiotta l'opportunità per le siciliane del tecnico spagnolo González che fermata la corsa vincente dalla cassa rurale Pontinia fanno visita alla Santa Rale Cingoli e lo fanno coi favori del pronostico dalla loro parte reazione cercasi proprio per Pontinia che torna in casa e fa i conti col brio e il morale alle stelle delle guerriere malo reduci da due vittorie consecutive estremamente preziose in chiave salvezza là dove sono disperatamente a caccia di punti anche Nuoro e Leno una contro l'altra in casa delle barbaricine e anche il fanalino di coda Cellini Padova chiamata al difficilissimo derby contro la Libest Espresso Mestrino Mestrino è favorita anche in virtù del successo con cui nel recupero di mercoledì sera si è imposta sul campo delle guerriere malo ora un'altra sfida tutta veneta per cercare la continuità necessaria a ripercorrere la classifica verso l'alto quanto al fronte maschile non si gioca l'attesa sfida tra Egosiene e Bressanone ancora il Covid purtroppo poco male si giocano tre partite tutti i recuperi appartenenti a turni diversi Saluificio, Riva, Molteno e Pressano si affrontano per la quarta giornata sanno decisamente meglio i trentini che sabato hanno strapazzato la corazzata Bolzano ma che ora se la vedranno con la fame di punti dei Lombardi di Onelli affascinante Alperia Merano Trieste sfida che si inserisce nel programma della undicesima giornata e seconda trasferta consecutiva per i Giuliani rimasti a bocca asciutta dopo la pur generosa prova offerta a Conversano in ultimo ancora alto adige con Spar e Reppan Cassano Magnago locali col vento in poppa dopo la vittoria ai danni di Cingoli mentre Cassano è uscita con le ossa rotte dalla pur complicata trasferta a Fasano un'altra partita lontani dalle muramiche del TACA metterà a dura prova la tenuta dei ragazzi di college severamente penalizzati dai tanti match non disputati nelle settimane scorse ma quanto è equilibrata questa Serie A Beretta soprattutto al maschile Matteo storie bellissime squadre che insomma non mollano mai veramente un campionato peccato per l'assenza di pubblico sugli spalti perché sì perché credo che tecnicamente sia la più bella degli ultimi 5-6 anni indubbiamente anche il più equilibrato equilibratissimo sì ma credo anche di poter dire che stiamo vedendo giocatori comunque con doti tecniche importanti che ci fanno vedere belle giocate sono arrivati stranieri anche molto forti esattamente e quindi questo aiuta e in più non è scontato dirlo in un anno così difficile c'è una rinnovata ambizione di tante squadre e quindi si sono tutti rinforzati e quindi davvero c'è tanto equilibrio tra tutte le squadre vediamo ad esempio quanto è successo al Palas San Giacomo con il Conversano primo in classifica il Trieste che non occupa le primissime posizioni ma è stato lì attaccato ai pugliesi fino alla fine insomma questo per dire quanto equilibrio ci sia vogliamo dare uno sguardo alla classifica tenendo conto insomma dei tanti recuperi ancora da effettuare quindi è una classifica molto molto così virtuale esattamente però vediamo la grafica perché comunque ci dà un'idea di quello che è accaduto in particolare con Conversano che la guida con 23 punti anche se Sassari come detto dovrà recuperare delle partite ha vissuto un buon momento sulla scia dei vari recuperi che è riuscita a vincere Siena che è salita al terzo posto anche per effetto invece del scivolone il doppio scivolone di Bolzano che ha perso due partite consecutive e questo non so da quanto non avveniva nel campionato di Serie A ha perso contro Contro Pressano in coda invece sia Albatro che Salomificio Riva Molteno come anche il Fondi dovranno probabilmente dare una scossa al loro campionato perché rischiano di vedere fuggire e allontanarsi le altre anche sì perché per esempio una squadra come l'Eppan che non era accreditata a inizio stagione sta invece conquistando tantissimi punti anche cingoli se vogliamo quindi insomma lotta per evitare la retrocessione davvero molto interessante ti dà uno sguardo anche la classifica della Serie A Beretta femminile dove insomma abbiamo registrato il sorpasso in testa ma c'è da fare i conti comunque con le partite che mancano all'appello in particolare una no? perché c'è c'è Vigmec infatti eh sì c'è la partita tra Bressanone e Salerno che sarà un po' lo spartiacque no? di quello che succederà che insomma che caratterizzerà questo girone di andata ferma il palo da diverse settimane anche la Mechanic System Moderso no? che ha pagato il suo contributo anche pesante alla pandemia sì purtroppo è un fattore è l'unica certezza brutta ma è l'unica certezza di quest'anno e quindi tutte dovranno farci conti eh diciamo della Mechanic System Moderso che causa Covid la pandemia è stata costretta anche a rinunciare alla partecipazione alla Supercoppa Day Supercoppa Day che si discuterà in questo fine settimana posto preso dal Cassano Magnaco che aveva chiuso al secondo posto l'unica manifestazione ufficiale disputata l'anno passato ovvero la Coppa Italia due partite ma soprattutto il taglio virtuale anche in questo caso del nastro della nuova casa della Pallamano Italiana centro tecnico federale di Chieti che è stata la scelta quasi naturale da parte della federazione perché poi quando si è soprattutto in un momento di difficoltà si va a casa e a Chieti sicuramente d'ora in poi sarà una casa importante per la Pallamano un impianto che per l'occasione è stato rimesso a nuovo e quindi sarà pronto ad accogliere lo sveleremo in questo fine settimana pian pianino un velo alla volta faremo vedere sì esattamente la nuova veste di questo impianto e poi sì ci sono queste due partite una dopo l'altra con questo format ormai confermatissimo del Supercoppa Day quindi un'unica giornata due partite alle 4 e mezza tocca Iomi Salerno e Cassano Magnaco che è una partita inedita come dicevi tu e poi c'è Bolzano-Conversano anche questa inedita perché Conversano è da un bel pezzo che non giocava una finale per un grande torneo abbiamo qualche contributo abbiamo sentito protagoniste e protagonisti iniziamo dalla partita femminile andiamo in rigoroso ordine cronologico rispetto a quello che sarà lo sviluppo delle partite da una parte Pina Napoletano capitano della Iomi Salerno dall'altro invece la giovanissima Lisa Ponti alla sinistra del Cassano Magnaco siamo molto cariche e Salerno si può dire che sta attraversando un buon momento di forma ovviamente le partite di questo calibro sono partite particolari noi rispettiamo il nostro avversario Cassano è una squadra composta da atleti molto giovani ma talentuose per cui ci impegneremo come sempre al massimo per conquistare il primo trofeo importante di questa stagione sicuramente siamo molto contenti di andare a giocare questa partita perché siamo una squadra molto giovane e questa è una bellissima esperienza di cui poter usufruire sicuramente sappiamo che stiamo andando a incontrare una squadra che è una tra le più in forma del campionato e che sicuramente è anche candidata per una delle candidate per il titolo italiano sicuramente cercheremo di giocare una partita una delle nostre migliori partite cercando di sfruttare ogni pallone che avremo a disposizione e sicuramente non ci daremo per vinte nessun momento della partita e invece subito dopo io mi salerano Cassano Magnago l'esperienza l'abitudine ai successi del Bolzano contro l'orgoglio la tradizione ma anche insomma il buon momento del conversano esatto soprattutto quello il buon momento del conversano e il momento negativo invece del del Bolzano anche se poi in partita secca tutto viene un po' rimescolato tutto viene riazzerato però conversano ha comunque giocatori che diciamo che è il nome della squadra conversano che non gioca una finale da tanto però poi i giocatori che vanno in campo come Umberto Giannoccaro che abbiamo ascoltato sono abituati a giocare queste partite dall'altro lato uno che forse si è stancato ad alzare le coppe Dejan Turkovic ascoltiamo per noi è una partita come tutte le altre dal punto di vista della preparazione perché comunque ogni partita la prepariamo nel miglior modo possibile sì emotivamente è tutta un'altra storia da raffrontare loro che comunque sono una grande squadra abituata a giocarsi certe competizioni ti dà quella motivazione in più per fare bene ci stiamo preparando bene durante tutta la settimana cercando di limare tutti i piccoli errori fatti nelle ultime due partite io personalmente anche perché so so benissimo di aver sbagliato in molte occasioni e cerco sempre di allenarmi per fare per fare il meglio per cercare di aiutare la squadra sabato ci aspetta un'avversaria tosta che quest'anno anche ha rinnovato la squadra secondo me si sono rinforzati e lo stanno facendo vedere anche in campionato dove attualmente sono primi tranne un passo falso hanno sempre vinto però come hai detto sarà una finale le finali vanno giocate una partita secca e sicuramente ci troveremo pronti non possiamo metterci come favorita in questa partita come hai detto usciamo da due sconfitte se a Siena c'erano delle cose positive adesso a Presano diciamo di positivo ce n'era veramente poco l'unica fortuna è che diciamo è la nostra peggior partita quest'anno quello sicuramente scelto low profile Dejan Tulkowicz d'altronde insomma il rendimento soprattutto le ultime settimane testimonia di un momento di impasse e Bolziano che però a classe esperienza da mettere sul tavolo poi partita secca può succedere sempre di tutto Matteo le due partite lo ricordiamo saranno trasmisse in diretta sabato dalla piattaforma ufficiale della FIGIAC Lema e Sport prima dicevo insomma tante novità in questo fine settimana a partire da domani esattamente perché domani si giocano a earning le semifinali dei campionati europei femminili che per la prima volta nella storia sono certo di poterlo dire verranno trasmesse in diretta su Sky Sport canale Sky Sport Arena canale 204 della piattaforma Sky che trasmetterà questo come tanti altri eventi della Palamano Italiana abbiamo avuto modo di ufficializzarlo la settimana scorsa proprio in concomitanza con l'assemblea elettiva e quindi venerdì ci sono le semifinali Francia-Croazia alle ore 18 e poi a seguire alle 20.30 Norvegia-Danimarca e domenica alle 18 sempre in diretta c'è la finale e allora diamo uno sguardo d'insieme a quello che accadrà in questo fine settimana è il caso di perdere carta e penna perché sono davvero tanti gli appuntamenti televisivi e sulla nostra piattaforma il live sport lo stiamo vedendo in grafica appunto proprio questa serie di appuntamenti sono tutti in diretta quindi venerdì pomeriggio alle 18 e alle 20.30 prima Francia-Croazia e poi alle 20.30 Norvegia-Danimarca a seguire sabato alle 16.30 la finale femminile tra Salerno e Cassano-Magnago alle 19 la finale maschile tra Bolzano e Conversano e domenica torniamo su Sky Sport Arena per seguire la finale dei campionati europei femminili e poi per non farci mancare niente ricordiamo che si giocherà regolarmente i recuperi delle partite anche in serie a Beretta e tutte le partite saranno trasmesse da il live sport poi vi forniremo insomma un'agenda insomma basterà consultare i nostri profili social al nostro sito Figgiacca per avere una guida orientata perché c'è da perdere un po' la bussola in questi casi a proposito di guida orientata notizia proprio di questi giorni conosciamo i nomi delle avversarie delle nostre nazionali giovanili le nostre nazionali di punta dell'Under 19 e dell'Under 20 ricordiamo non si sono disputati i campionati di categoria per l'emergenza covid ma c'è un'opportunità ghiotta quella di qualificarsi mondiale in che modo? ai campionati mondiali Under 21 e Under 19 che si giocheranno rispettivamente in Grecia e in Ungheria e la federazione europea appunto ha dovuto inventarsi un modo per assegnare le formule abbastanza fantasiose abbondano e quindi le prime 12 dei ranking dei campionati Under 20 e Under 18 del 2018 sono direttamente qualificate la 13esima e la 14esima classificata e le due promosse dai championship quindi l'Italia e l'Austria in questo caso hanno il diritto di giocarsi in un gruppo all'italiana in un girone all'italiana racchiuso in tre giorni due posti di qualificazione due posti per accedere ai campionati mondiali nell'Under 21 si gioca per l'Under 21 qual è il girone? si gioca dal 12 al 14 marzo e si affronta non c'è ancora una sede non è stata ancora stabilita la sede verrà sorteggiata il 19 dicembre Israele Romania l'Austria e ovviamente l'Italia cambia una sola squadra invece nel girone dell'Under 19 perché abbiamo al posto dalla Romania alla Russia quindi Russia Israele Italia e Austria queste sono le quattro squadre in questo caso nell'Under 19 si giocherà primavera si gioca dal 30 aprile al 2 maggio queste sono le coordinate è molto facile la formula tutti affrontano tutti passano le prime due che vanno però direttamente al mondiale è un'opportunità storica e quindi ricordiamo che in questo mini girone all'italiana su quattro squadre partecipanti due accedono direttamente ai mondiali è un'occasione straordinaria per le nostre rappresentative giovanili che chiaramente si prepareranno questi mesi nelle prossime settimane abbiamo la casa della pallamana e quindi abbiamo una sede dove poter ospitare gli stage che saranno sicuramente impegnativi perché l'occasione ne parlavamo anche prima con Gianni Censi è davvero molto importante per l'intero movimento bene io penso che abbiamo chiuso abbiamo dato una serie di dati una serie di appuntamenti poi chiaramente la comunicazione e le informazioni seguiranno insomma il flusso abituale noi diamo appuntamento domani su Sky Sport Arena 205 204 204 scusa 204 per le due semifinali dei campionati europei e sabato il Evesport poi basta credo che ne abbiamo no? abbiamo detto tutto direi di sì alla grande bene allora settimana prossima ci ritroveremo per l'ultimo appuntamento dell'anno di un 2020 che insomma sarà il caso di archiviare in fretta e senza neanche tanti giubili perché insomma non è stato da tutti i punti di vista un anno da ricordare quindi ci ritroveremo settimana prossima grazie a Matteo Aldamonte grazie a tutti quanti voi per averci seguito seguiteci domani Sky Sport Arena sabato per il Supercoppa Day perché è il momento questo di seguire la grande Pallamano e lo potremo fare anche seguendo canali che solitamente insomma non erano avvezzi alla Pallamano è un momento di orgoglio indubbiamente per tutto il movimento enorme enorme grazie a tutti quanti voi buona fine settimana arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.